questa è la cassetta torna a sorridere di riccardo fogli a differenza del venile e del cd questa cassetta contiene un'altra canzone che nel cd e nell'lp non ci sta che si chiama per lucia quindi è un bonus track come potete vedere qua tra parentesi ci sono gli autori delle canzoni e questa è la cassetta all'interno se vi è piaciuto questo video mettete un like